nonostante alessandro stia con roberta di padua sembra che abbia risentito la sua ex ida platano come sappiamo dalle anticipazioni di uomini e donne ha lasciato il trono da sola i suoi corteggiatori mario cusitore e pier paolo siano non l'hanno convinta e così non ha scelto nessuno diciamo che a lei piaceva più mario ma che con le tante segnalazioni emerse e la confessione di cusitone di aver passato una notte in un bb con un'altra donna giustamente ida non si è sentita di sceglierlo ma l'indiscrezione di oggi svela che la platano una volta lasciato il trono avrebbe risentito il suo ex alessandro vicinanza che in questo momento dovrebbe essere ancora fidanzato con roberta di padua veianira marzano e amedeo venza hanno ricevuto questa segnalazione che hanno pubblicato sui loro canali social sono la cugina del marito del cognato di ida platano e ti posso dire che lei e alessandro vicinanza di sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma tu pensi che potrebbe esserci la possibilità che ritornino insieme ovviamente è solo un'indiscrezione che non trova conferme dai diretti interessati almeno per ora